C'è un minuto, Fiaro? Come no? Ti dovremmo fare un paio di domande. Perché, a differenza da avvocato, a me non mi interessa te capire come usciremo da qui. Ma come cazzo siamo finiti dentro? Chi vi ha visto seppelli i cadaveri? Quali cadaveri? Quello del barone e quello del canizzaro. Nessuno qui ci ha visto. Anche perché sennò sarebbero saltati fuori prima, no? Allora avessete fatti sfuggire qualcosa con qualcuno? Che ne so, un amico, una mignotta. Ma di che? Ma che sa di? Ma troppi nemmo seppelliti per fare una cazzata così. Allora guardi che qua a mezzo c'è Giuda. Come avevamo sempre fatto. Prima ci siamo presi l'uomo. E ora sappiamo sto cazzo di carcere. Ti serve un pezzo di carta con una penna. Ve lo provi a vedere? E' nuova te zecca. Ci hai guadagnato nel cambio. Allora? Ho scoperto qualcosa? La storia d'Abbisca è una scusa. Altrimenti avrebbero preso pure l'altra, invece hanno arrestato solo a noi tre. Siete che è qualcosa che abbiamo fatto senza il freddo, quando se ne stava i cazzi su. Ottia, guarda questi come ci schizzano. Volemo scommettere che sanno qualcosa. Quelli che hanno brindato alla fine nostra. Trovamoli. E sapremo chi c'è sta dietro. Forse. Ieri sera è passato il libanese. E che voleva? Non ti ha minacciato, no? Fine colloquio!